È un'area verde che viene messa a disposizione di questa zona del quartiere Iapigia, qui c'è una bella struttura che sarà un bar, animazione, darà la possibilità anche ai ragazzi del quartiere di poter utilizzare questa zona, sono previste delle zone giochi per i bambini un po' più piccoli e per quelli un po' più grandi, quindi anche questo è uno spazio per socializzare come in tutti gli altri parchi della città. Come ho detto durante la mia campagna elettorale, la città è policentrica, ogni quartiere deve avere il proprio parco, la propria biblioteca, il proprio spazio per fare attività sportiva all'aperto, ecco questo è uno dei parchi del quartiere Iapigia dove sono più di uno. Come mai ha scelto di ripartire da Iapigia? Perché questo era il parco più in difficoltà rispetto agli altri, il lavoro più lento, siamo venuti qui insieme a voi la prima volta tanto tempo fa, è passato quasi due anni, però stiamo andando avanti, oggi vedo i lavori procedere, stanno procedendo abbastanza speritamente nell'ultimo periodo. L'assessore Giuseppe Galasso è subito al suo fianco, è un messaggio per il futuro questo? Giuseppe Galasso gli chiedo davanti a tutti di restare a fare l'assessore dei lavori pubblici, poi deciderà lui, è aumentata la famiglia in questi cinque anni, però gli ho chiesto un altro sacrificio come gli ho chiesto cinque anni fa, solo che l'altra volta gli ho chiesto di persona, adesso lo sto facendo davanti alla città, deciderà lui.